per entrare nella macchina dell'euro. Perché volevamo entrare nella macchina dell'euro? Chi se l'ha inventata la macchina dell'euro? Preceduta dallo SME, che era la costruzione di un sistema di cambi semifissi, fino appunto all'euro, costruzione di un sistema di cambi fissi e moneta unica. Perché abbiamo fatto ciò? Per un paio di motivi, e qui veniamo alle cose grosse sulle quali non abbiamo praticamente potere, però almeno le dobbiamo sapere. Perché, primo motivo geopolitico, l'euro è servito a impedire alla Germania unificata di vagare liberamente sulla scena internazionale, nel suo storico, diciamo, non allineamento con le potenze occidentali. Voi rimarrete stupiti, forse, ma la Germania è un pezzo d'Occidente soltanto, poi una Germania occidentale, è un pezzo di Occidente solo del 1945. Prima la Germania, lasciamo stare i dodici anni nazisti, prima la Germania era qualche cosa che diceva di se stesso di essere un Sonderweg, una via speciale e non si sentiva per nulla occidentale. Occidentali erano i francesi, gli inglesi, i mercanti, i tedeschi erano un'altra cosa. Allora, siccome qualcuno aveva un po' di memoria storica, è stato detto, prima di tutto, i governanti europei, non vogliamo la riunificazione della Germania. Gli americani e i russi invece hanno detto, ve la tenete, però ve la tenete stretta, perché dogma, soprattutto l'hanno detto gli americani che in quel momento comandavano, dogma, uno dei dogmi della geopolitica, della geostrategia statunitense è impedire il formarsi di un blocco continentale, in questo caso bicontinentale, che metta insieme un'area di grandi risorse, la Russia, e un'area di altissimo sviluppo tecnologico, la Germania. Guai, non può accadere. Lo stesso vale per il Giappone. Il dogma della politica statunitense è il Giappone e la Cina non devono andare d'accordo, non si devono saldare. La Germania non si salda alla Russia, perché l'euro la trascina in Europa. Però, naturalmente, la Germania vuole in cambio qualcosa. E che cosa vuole in cambio? Che la moneta, eccoci, la moneta unica che la tiene ancorata all'Europa sia il marco. cambiato il nome, tutto il resto deve rimanere identico. E soprattutto la filosofia politico-economica di fondo, che è l'ordoliberalismo tedesco. Ora, io non mi sogno nemmeno di spiegarvi l'ordoliberalismo tedesco, però, che è una cosa che nasce come risposta alla crisi del 29, a opera di una serie di pensatori economici che si chiamano Scuola di Friburgo. Uno di essi, il meno dotato intellettualmente, ma il più dotato politicamente, era Erhard, il ministro delle finanze di Adenauer. I nomi dei grandi sono Eucken, sono Roustov e altri. Repche, sono anche tradotti in italiano, eh. Chi fa politica e chi sta dentro il mondo economico dovrebbe conoscerla. Che cos'è l'ordoliberalismo? È una linea di pensiero e una linea pratica che ha i seguenti obiettivi. Spoliticizzazione del lavoro. Cioè il lavoro, la produzione. Non è concepibile come una dimensione nella quale nascono conflitti. Questo lo chiamano anche sistema delle compatibilità. Cioè l'ordoliberalismo è una dottrina politica economica che stabilisce quali sono i pensieri e le azioni compatibili col buon funzionamento del capitalismo. E vi garantisco che fra i pensieri e le azioni compatibili col buon funzionamento del capitalismo non c'è la valorizzazione del conflitto sociale. Ma nemmeno per idea. Non a caso in Germania non ce l'hanno e hanno al contrario la mitbestimmung. Secondo dogma dell'ordoliberalismo. Lo Stato è utilissimo a far rispettare le regole, ma non le può dettare. Le regole del capitale sono immanenti al capitale. Qual è la regola fondamentale del capitale? Marx avrebbe risposto che il capitale è un sistema di produzione squilibrato dentro il quale nascono conflitti e contraddizioni. Questi rispondono no, noi siamo figli del marginalismo, ragioniamo per modelli di equilibrio, l'economia può stare in equilibrio. Quando e a che condizioni? Purché si accetti che i prezzi sono determinati dalla concorrenza. Che vuol dire? Che lo Stato deve impedire a voi sindacalisti di tirare troppo la corda e in linea teorica deve impedire ai capitalisti di fare cartello. Naturalmente questa seconda fa ridere. La prima è vera. E conseguenza di tutto ciò? Beh, la conseguenza di tutto ciò è che si può ragionare per alternanze, ma non per alternative. Non so se è un modo più dotto per dire quello che diceva la signora Thatcher. Non c'è alternativa. No. I partiti politici devono introiettare le regole di funzionamento dell'economia di mercato, che sono queste. Se non lo introiettano, diventano dei paria che devono starsene. Bisogna tagliare le ali. Tagliare le ali. Se c'è qualche nazista, quello lo mettiamo pure in galera. E i comunisti, cerchiamo di metterli in galera, di fare il berus farbot, e comunque non avranno mai accesso al potere politico, che può essere gestito in alternanza dai socialdemocratici e o dai democristiani, purché non sazzandino a mettere in discussione i sacrosanti dogmi dell'ordoliberalismo. Bene. L'euro nasce così. L'euro è questa cosa qui. Ha questi vincoli dentro di sé. Per di più, ha un problema enorme, che è una moneta unica che si abbatte su un'area altamente disomogenea. economicamente disomogenea, produttivamente disomogenea, storicamente disomogenea. Costringendo, dato che gli Stati hanno rinunciato soltanto alla sovranità monetaria, ma non alla sovranità fiscale, costringendo gli Stati a praticare la propria sovranità fiscale in modo convergente, convergente rispetto alla Germania. E se non lo fanno, che succede? La punizione. Lo spread. Il tutto in automatico, senza che vi sia... Naturalmente, quest'ultimo passaggio, e su questo punto bisogna essere molto rigorosi, quest'ultimo passaggio è soltanto un passaggio previsto dalla dottrina. Nel senso che l'aumento dello spread, in realtà è determinato dalla libera volontà degli investitori internazionali, non da Bruxelles. Bruxelles può muovere, forse, dei capitali, ma, insomma, le mostruose quantità di capitali che servono per muovere lo spread di un paese come l'Italia, sono poi in mano ai grandi investitori finanziari privati internazionali, non a Bruxelles. Bruxelles dice che se l'economia funziona come diciamo noi, e di ciò non abbiamo il minimo dubbio... quindi... ... Grazie.